Cari amici di Veneto Globe, gentili ascoltatori di Radio Conegliano, ben ritrovati nello spazio che Veneto Globe e Radio Conegliano dedicano agli speciali e alle interviste. Abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi la signora Luigina Balsalin Rossi, che è la presidente dell'Università degli Adutti degli Anziani di Conegliano. Signora Luigina, buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ecco, lei è qui in un'occasione davvero speciale perché per l'Università degli Adutti degli Anziani di Conegliano è il momento di una festa in virtù del compleanno che compie questa associazione. E quindi noi siamo davvero curiosi di conoscerla meglio e di saperne di più. Bene, sì. L'Università degli Adutti Anziani di Conegliano compie 30 anni. Nasce da una intuizione fortunata di Giovanni Tabelletti, sostenuto da figure illuminate di professionisti, con evidente vocazione all'impegno sociale e da associazioni come l'Esor Optimist. L'Università degli Adutti Anziani viene costituita nel 1986. Dopo le prime perplessità iniziali, le persone a cui era rivolta la proposta di una università per adulti hanno aderito con entusiasmo e impegno, spinti dal desiderio di ricominciare a studiare, di allenare l'intelletto da adulti quando studiare non è più un obbligo, ma una scelta consapevole e divertente. Il mondo del lavoro considera il pensionato un individuo non più produttivo e quindi lo ignora. E proprio allora scatta la rivincita intellettuale. Informarsi, cimentarsi, provare, apprendere ciò che non era stato possibile fare fino a quel momento. Casalinghe frustrate e relegate nel guscio domestico hanno avuto l'opportunità di informarsi, di realizzarsi, di imparare lingue straniere con tempi e modi adeguati, con obiettivi e risultati insperati. La vostra è una realtà importante, ben radicata nel territorio, che ha anche un certo numero considerevole di iscritti. Come è strutturata? Quanti sono gli iscritti nella vostra università? Quest'anno abbiamo avuto 509 iscritti per il comune di Conegliano, per la realtà di Conegliano e abbiamo anche una sezione staccata in comune di Sanfior con 74 iscritti. Ma come media negli ultimi sette anni abbiamo avuto una media tra Conegliano e Sanfior di oltre 600 iscrizioni per ogni anno accademico. In quest'anno accademico, nella sola sezione di Conegliano, si sono avvicendati 80 docenti e sono state superate le 1860 ore di lezione. Quindi è un lavoro molto impegnativo, importante. Abbiamo dei docenti che offrono le loro esperienze professionali in modo disponibile e gratuito. Il volontariato di dirigenti, assistenti, collaboratori tutti rende possibile e preziosa questa realtà, dove scambi culturali e valori individuali, esperienze e speranze arricchiscono la personalità di ciascuno in una osmosi impercettibile ma continua e proficua. Ogni corsista illuminante e lungimirante che ha scelto di fare parte della nostra associazione di promozione sociale può sentirsi orgoglioso per aver organizzato la propria vita in modo da affinare gli strumenti per svolgere un ruolo da protagonista nella società, nella vita quotidiana, portando una presenza di civiltà, di cultura, di sensibilità e di sereno equilibrio. Le nostre università sono una evoluzione delle prime iniziative quando, dove e come e perché sorsero le università per adulti e anziani. 1973 a Tolosa, la prima università per la terza età, come corso di studi speciali organizzato da Pierre Veillard presso l'Università Statale di Tolosa. C'era stata una ricerca applicata a fenomeni di invecchiamento e la verifica di un rallentamento del declino dell'anziano quando è legato a uno stimolo intellettuale. L'iniziativa si diffuse in Europa e si costituì nel 1977 un'associazione internazionale delle università per la terza età. La sigla è AIUTA, AIUTA. E con l'elaborazione della carta dei diritti dell'anziano. Cito alcuni che sono significativi perché non sono molto diversi dal diritto degli uomini, del diritto dell'uomo. Però è specificato che è vero, sì, bisogna, ha il diritto della dignità ogni persona, ma bisogna condannare ogni discriminazione quando questa avviene in funzione dell'età. Il diritto a un ambiente di qualità, quindi ogni anziano deve poter circolare senza trovare difficoltà, ostacoli, impedimenti. Il diritto all'informazione per poter gestire la propria vita. Il diritto alla cittadinanza attiva per poter esercitare i propri diritti democratici a tutti i livelli. Il diritto alla formazione. Ogni anziano deve avere accesso alla cultura, all'educazione permanente per poter sviluppare le proprie capacità di intervento e di creatività. Diritto all'utilità sociale e culturale. Quindi ogni cittadino anziano deve avere la possibilità di reinserirsi in circuiti per poter essere utile alla collettività. E quindi questa è stata la base su cui poi sono venute man mano formandosi le altre università. Le università si diffusero in Italia negli anni Ottanta e non sono più tanto legate all'università degli studi ma promosse da istituzioni culturali non statali, da gruppi di volontariato che hanno mantenuto il nome di università pur non essendo più una specifica emanazione degli Atenei ma ne conservano lo spirito dell'alto livello culturale. Signora Luigina, a beneficio di tutti i nostri amici che ci ascoltano e dei nostri amici che ci stanno seguendo. Chi fosse interessato a partecipare, come può iscriversi, cosa deve fare, dove vi trova? Attualmente abbiamo una segreteria e una sede in via Zamboni 1 qui a Conegliano. Le nostre iscrizioni cominciano in settembre e vanno avanti per i primi due mesi dell'anno. Le attività cominciano in ottobre e c'è una tessera di iscrizione da pagare che è comprensiva anche di un'assicurazione per eventuali piccoli incidenti che possano succedere durante il trasporto da una sede all'altra. Ognuno può seguire delle materie che lo ispirano di più, che lo stuzzicano, che lo stimolano di più, sia di cultura generale che di laboratori. E quindi può spaziare, abbiamo un lungo elenco di materie che è inutile qui fare, abbiamo tanti volantini illustrativi e chi desidera avere delle informazioni, a parte che può sempre rivolgersi al numero di telefono, che possiamo dare adesso o anche in un altro momento. C'è l'università che ha il telefono e funziona tutte le mattine, escluso il sabato, dalle 10 alle 12, ed è, il numero è 0438 45 17 14, ma lo trovate in tutte le... Poi abbiamo una mail, uniaa.conegliano.it e un sito web che è curato dal nostro specialista insegnante di informatica, che è veramente sempre molto aggiornato, in cui lì potete vedere tutte le nostre attività, tutte le nostre foto, tutte le nostre... e quindi è www.uniaa.conegliano.it Ecco, signora Luigina, lei è da sempre molto impegnata in questa associazione, possiamo chiederle che cosa le ha dato maggiore soddisfazione in questa sua lunga esperienza? La soddisfazione maggiore è quella di vedere le persone sorridere e riprendere fiducia in loro stesse, sapere che mi rendo conto dagli sguardi, dalla frequenza che hanno, che hanno riacquistato il senso del proprio valore, della propria identità, che si sentono sicure e che sentono di valere, di avere un posto nella società, mentre potevano sentirsi esclusi o depressi. Sono passati 30 anni, l'Università di Conegliano è nel pieno vigore di una giovinezza entusiasta e ricca di progetti. Le persone che danno vita alla nostra associazione sono andate via via modificandosi in questi anni, cambiando alcune caratteristiche esteriore e marginali, ma quello che appaga e dà la carica per continuare a lavorare, è la constatazione che l'entusiasmo giovanile, la curiosità di sapere, vedere, imparare, la voglia di mettersi in gioco con novità o imprese ritenute impossibili, tutto questo è la spinta interiore che anima i nostri corsisti. Musica, arte, letteratura, scienze e astronomia non sono che piccola parte delle materie che proponiamo e che i corsisti prediligono oltre argomenti di sociologia, psicologia. Abbiamo anche un gruppetto che segue delle lezioni fantastiche di filosofia. Attività motorie consentono di mantenere in forma corpo e spirito per giungere a la festa della creatività e della manualità sorretta dal talento che i nostri soci hanno avuto la possibilità di esprimere realizzando opere incredibili. Infatti, mercoledì 11 maggio, alle ore 18, sarà inaugurata una mostra speciale ed resterà aperta fino al 15 maggio. È possibile ammirare le opere dei corsisti di tutti i laboratori presso la galleria Il Garage Corso Vittorio Emanuele XIII a Conegliano. E non mancheremo. Coro, teatro, gruppo musicale completano la molteplicità di occasioni per costruire insieme in modo piacevole la capacità di stare insieme agli altri in serenità e armonia realizzando lo scopo dell'università imparare divertendosi. Bene, complimenti quindi all'università degli adulti degli anziani di Conegliano. Signora Luigina, noi siamo purtroppo agli sgoccioli di questo nostro incontro, purtroppo il tempo è tiranno, però prima di salutarci noi vogliamo ricordare ai nostri amici qual è lo slogan, perché l'Università degli adulti e degli anziani di Conegliano ha uno slogan. Le lascio la parola in questi ultimi secondi. Va bene, la ringrazio. Allora lo slogan che ho spulciato qua e là l'ho sintetizzato in questo se smetti di imparare incominci a invecchiare. L'Università adulti e anziani di Conegliano è basata sul volontariato come impegno gratuito e continuativo con finalità di promozione sociale e culturale. La nostra scuola per adulti è un laboratorio di longevità e poiché è importante come si invecchia, cerchiamo di invecchiare bene e assieme agli altri. Suggeriamo nuovi stimoli per una ricerca personale di conoscenza e di creatività. L'adulto impegnato vive meglio. Interessi e passioni sono stimolanti. Gli entusiasmi non si spengono a causa degli anni, ma solo per la scarsa volontà e la rinuncia del cervello. Per libera scelta il corsista partecipa alle proposte e curiosità culturali, trova stimoli e motivazioni per avere sempre maggiore consapevolezza di sé, del proprio ruolo, del proprio valore. La partecipazione attiva dei corsisti ha una ricaduta positiva sulla persona, sulla persona in primis, ma poi su tutta la comunità. è un antidoto per la depressione, è un'alternativa alla tristezza e alla solitudine. La nuova cultura a cui tendere è la cultura antropologica, cioè la valorizzazione della persona umana nella sua totalità, razionalità, sentimenti, emotività, talento, dove è la storia di ciascuno che viene elaborata, arricchita di nuove esperienze condivise con altri corsisti. Sicuramente un'occasione anche per socializzare. Noi terminiamo qui questo nostro appuntamento, ringraziamo la signora Luigina Balsarin Rossi, presidente dell'Università degli Adulti e degli Anziani di Conegliano. noi ci auguriamo di averla ancora presto nonostante i suoi numerosi impegni nei nostri studi. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato e auguriamo a tutti ancora una buona giornata. Grazie a tutti e venite a vedere la mostra. Grazie a tutti e venite a vedere la mostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.